ciao a tutti buonasera penso che possa essere anche abbastanza sintetico visto visto l'orario sul concorso le novità si sanno fondamentalmente liguria e toscana sono partite la puglia ha fatto quella strana situazione della gradatoria provvisoria sembrerebbe che il Lazio ed Emilia Romagna siano alle porte oggi il Trentino ha nominato la commissione questo ci fa pensare come ci siano ancora invece altre regioni che pur avendo fatto il concorso bandito il concorso alcuni mesi o addirittura anni fa non hanno ancora neanche formalizzato la commissione questo dimostra che quella famosa idea che qualcuno aveva paventato che i concorsi dovessero essere pubblicati in contemporanea non aveva come abbiamo sempre detto nessun senso anche perché non era riportato da nessuna parte le domande che stanno venendo sono tutte quante abbastanza legate alla valutazione dei titoli io penso che sia fondamentale in questo momento ribadire una cosa i titoli non hanno una blindatura tranne quelli che sono previsti blindati per legge cioè mi spiego la idoneità a un concorso vale un punto qualunque sia la commissione e c'è le 10 e l'od vale un punto qualunque sia la commissione però la specializzazione può valere 0,5, 1, 1,5, 2 in funzione di quella che è la valutazione che la commissione stessa ha dato pertanto non è possibile fare ricorso perché una commissione ha stabilito che la specializzazione di farmacia ospedaliera valga un punto e mezzo e un'altra abbia dato invece una valutazione di un punto su queste discrezionalità è facile avere la intuizione per la valutazione perché nella norma sta scritto fino a allora laddove trovate scritto fino a c'è una discrezionalità della commissione in genere le problematiche più grosse sono legate alla specializzazione al voto di abilitazione e soprattutto al voto di laurea diciamo che il voto di laurea è quello che ha creato i maggiori problemi perché per esempio in Puglia si è partiti intorno al 90 invece nelle altre regioni si è partiti addirittura dal minimo da 66 e che cosa succede anzi è di solo più bassa che cosa succede che in Puglia come ho scritto io l'altra volta una persona che ha 91 e un altro associato che ha 92 insieme arrivano ai 5 punti e in un'altra regione invece in Toscana e in Vicuria si arriva a 5 punti in Puglia a Stendo si prende un punto e ovviamente 4 punti di differenza significa scalare centinaia di posti in classifica. Che dire, purtroppo c'è la discrezionalità della commissione, non possiamo far nulla. L'altra domanda che è molto frequente riguarda la Puglia, a questo momento la Puglia ha adottato un sistema strano, quello di richiedere una formalizzazione degli errori eventualmente riportati ma questa non ha nessuna valenza di legge, nel senso che un eventuale ricorso parte dal momento in cui viene pubblicata la graduatoria. Ad oggi la graduatoria non è stata pubblicata e si parla del mese di gennaio, pertanto tutti coloro che non dovessero essere sali soddisfatti dalla risposta informale che la regione Puglia ha dato possono sempre fare ricorso per quel che riguarda la valutazione di titoli o altro dal giorno in cui viene pubblicata la graduatoria. Le altre domande in genere sono legate molto spesso alla remunerazione, conviene o non conviene? Ragazzi io dico questo, in ogni caso conviene, perché è fondamentale che si aprano delle farmacie e poi è fondamentale capire qual è lo stato in cui si versa, cioè se si è in una posizione farmacista ospedaliero probabilmente potrebbe anche valutare di non aprire, ma in tante altre situazioni non buttiamo a mare delle opzioni. Un'altra cosa fondamentale che io consiglio per il concorso, forse è la cosa più importante, è che laddove la partecipazione è associata, e diciamo che nel 99% dei casi vincono gli associati, prima del concorso, ma anche prima dell'interpello, gli associati si mettano d'accordo e facciano un patto scritto, una specie di scrittura privata, un patto parasociale, chiamatelo come volete, però è necessario che voi blindiate il vostro accordo, perché questa è una società che deve durare 10 anni e probabilmente anche oltre 10 anni e voi dovete stabilire prima qual è il corretto funzionamento della società, tutte le regole della società, tutte le regole anche dell'interpello, quanto più cose scrivete, tanto più avrete dei vantaggi successivi perché non ci sarà dato adito a discussione, perché le società sono utili, non è vero che le società devono essere in numero dispari inferiore a uno, inferiore a tre, anche perché in questo caso potreste avere grandissimi vantaggi dalla società, pensiamo agli orari, alle ferie ed altro, ma soprattutto però dovete essere in grado di andare avanti voi e le vostre famiglie, perciò accordatevi senza andare da notare, senza far spendere tantissimi soldi, ma è soprattutto quello di parlare con qualcuno che ne capisca di farmacia, non tanto di normativa, ne capisca di farmacia e che permetta a voi di avere un quadro chiaro del vostro percorso, in modo tale che sappiate come muovervi, lo dovete fare subito, soprattutto per coloro i quali sono intenzionati nelle regioni che già sono uscite o che stanno per uscire, perché vi faccio un esempio banale, se siete arrivati a 47esimi o 22esimi, chi stabilisce le 22 sedi? Allora voi dovete stabilirle voi prima, dovete stabilire quali sono le vostre priorità, perché a un certo punto la rinuncia dell'uno significa creare problemi agli altri, non lo dimentichiamo questo fatto e né possiamo poi nasconderci dietro il fatto, ma io non lo sapevo, perché nel momento in cui abbiamo fatto un concorso, nel concorso abbiamo accettato le regole di questo concorso e nelle regole sta scritto che nel momento in cui uno dei partecipanti non si tira indietro, la società decade, questo aspetto ricordiamo che potrebbe poi dare anche adito a dei sistemi diversi, anche di richiesta di risarcimento nel momento in cui uno si dovesse tirare indietro e desse in questo caso un grande problema economico ad altri. Le situazioni dei vari associati possono essere diverse, a me che sono per esempio un informatore scientifico può non andare bene aver vinto la settantesima sede, ma se sono associato con un collega che è stato appena licenziato, probabilmente a quell'altro va bene la settantaseiesima sede, allora queste cose vanno assolutamente valutate prima, organizzate prima e stabilite prima, va stabilito tutto, tutto quello che riguarderà la corretta gestione della faccia, questo è un consiglio molto accorato che sento di darvi, perché non dobbiamo demonizzare la società, però dobbiamo organizzarla. Per il resto noi siamo a disposizione, per quel che sono le competenze, le conoscenze, una cosa che posso dire è che le regioni che hanno chiesto agli ordini di fare una verifica, sono in questo momento 9, c'è addirittura la Lombardia che è stata la prima, però non abbiamo ancora notizie della pubblicazione della gradatoria e l'altra cosa che mi è stata chiesta da un collega, come mai non viene richiesta la valutazione dei titoli per tutti coloro i quali sono iscritti ad un ordine e che hanno partecipato, faccio un esempio, se sono iscritti all'ordine di Napoli e sono arrivati in gradatoria 4 centesima nella gradatoria della Toscana, probabilmente la Toscana non chiederà all'ordine di Napoli la verifica dei titoli, perché chiede la verifica dei titoli soltanto a quelli che si sono spiazzati in posizione utile, questo non significa che la persona sia stata scartata, in questo momento la regione ritiene che non sia utile andare a fare una verifica e ingolfare burocraticamente il sistema. Questo rapido escursus ovviamente non è spiegativo di tutto, non è completo, però probabilmente potrebbe dare adito a qualche riflessione, cosa che penso sia molto utile. Grazie! Grazie!